Filippo Penna, innanzitutto come inizia questa stagione rosso-nera? Speriamo nel miglior modo possibile, oggi si parte per il ritiro, avremo dieci giorni di lavoro intenso, vedremo un po', devo ancora conoscere bene i giocatori, i mister, mi auguro nel miglior modo possibile questo inizio. Filippo tu sei un difensore, come puoi giocare nella difesa 4 dei mister da Verza? Sì, in difesa 4 gioco difensore centrale, in passato, in primavera ho giocato anche qualche prete da terzino, ma il mio ruolo comunque è il centrale che mi sedisce anche più per le mie caratteristiche. E poi tanti difensori centrali statuari a Lancià, pensare a Menta, pensare a Meg Trust, quindi Penna ci va benissimo. Sì è vero, siamo in difesa, soprattutto i centrali siamo tutti molto fisicati, speriamo di far più presenze possibili. Filippo che cosa ti aspetti da questa stagione a Lanciano? È una buonissima piazza questa, soprattutto per i giovani, quindi cercherò di giocare, di giocare il più possibile, quindi è quello a cui ambisco. E dai difensori, che poi sono il nucleo, lo zoccolo dura di questa squadra, i vecchietti per intenderci, hai già iniziato a conoscere, a carpire qualcosa oppure tutto inizierà oggi? Ma ci siamo giusto presentati, non li avevo mai conosciuti, non avendo mai giocato in B, nel primo anno li ho conosciuti giusto le presentazioni oggi, ma comunque mi sembra già così come prima impressione un bellissimo gruppo.